Io non ve lo voglio Ti do anche nel profilo professionale Lo sai che c'è qualcuno che conosce il suo cavallo di battaglia? Qual è il cavallo di battaglia? Qual è? Qual è? La bimba Dove? Qual è il cavallo di battaglia di Adri? Settemila caffè Padrino, vado, lascelà Allora, a grande richiesta, Adriano con settemila caffè Grazie Grazie, solo per poi Vai avanti e fai questa brutta figura, da solo Prego No, no, vai Da premettere che è a cappella, quindi è ancora più difficile Che faccio? Come faceva? Sulle mani Settemila caffè Le ho già presi perché Sono stanco di stare Al volante vorrei arrivare entro sé Ma che stai? Su, su! Inverso di me E io pazzo di te In un attimo ci diamo il bacio più dolce, più dolce che c'è Tutti insieme! Bravo! Stai iniziando Bravo! Bravo! Carina! Bravo! Molto! C'è piaciuta? Grazie, grazie per l'accompagnamento Vabbè, dopo questo momento rialta a scuola Pimba Lei vive con noi Lei vuole ballare Come ti chiami, Pimba? Si chiama Francesca, bambino Ma ne sei persa? No Sei qui per caso Dov'è la mamma? Ciao, passeggiamo Adriano Piccola Allora, adesso inizia il secondo gioco Siamo arrivati al momento della danza Al momento del ballo Guarda i ballerini